Ciao a tutti da Vittorio, l'episodio del secondo gol della Lazio di cui parleremo alla fine di questo video ha un po' oscurato tutto quanto di positivo c'è stato nel match Lazio-Inter perché bisogna dire che la Lazio ha giocato bene, ha meritato di vincere nonostante qualche giornalista dell'Inter dica al contrario ed è stata una prova sicuramente incoraggiante e una risposta dopo la brutta prestazione contro il Bologna ci sono un paio di punti da analizzare prima di andare all'episodio di Felipe Anders il primo è che nel primo tempo la Lazio ha dominato l'Inter Basic ha avuto tre occasioni, una l'ha avuta Pedro, un'altra l'ha avuta Immobile però nel primo tempo si è chiuso con l'1-0 dell'Inter che ha avuto due chance, il rigore e il tiro da fuori da Perisic è assegnato questo sia un fatto positivo perché la Lazio ha creato tanto, ha creato tanto in generale in tutta la partita sia un fatto negativo, quando crei così tanto devi cercare di finalizzare, di concretizzare e la Lazio nel primo tempo non lo ha fatto e questo è sicuramente qualcosa su cui Maurizio Sarri dovrà lavorare il secondo punto è che quando il 3-5-2 affronta il 4-3 di solito il 4-3 ha superiorità sulle fasce ci sono due esterni per fascia nel 4-3, nel 3-5-2 ce n'è solo uno Inzaghi però è stato molto bravo perché ha preparato bene questa partita facendo giocare i due attaccanti centrali, in questo caso Zeko e Perisic molto vicini fra di loro, costringendo la difesa 4 della Lazio a stringersi e togliendo la superiorità numerica della Lazio sulle fasce in più Inzaghi ha chiesto a Darmian di giocare praticamente sulla riga del laterale largo e questo creava grande libertà al giocatore dell'Inter e ha messo in grave difficoltà la Lazio perché non riusciva mai ad accorciare in tempo e quindi questa è stata una tattica che soprattutto nel primo tempo e nell'inizio del secondo ha creato tante difficoltà alla Lazio Parlando di difesa, è strano che la coppia centrale è andata molto bene e noi avevamo grande paura, soprattutto vedere Patrick giocare titolare contro l'Inter invece alla fine Patrick e Luis Felipe sono stati, non dico perfetti, ma molto bravi anche nei momenti finali quando l'Inter ha provato tutto per tutto mentre gli esterni, soprattutto Isai e Marusic, secondo me non hanno giocato bene Isai non solo ha procurato rigore, ma è andato sempre in grande difficoltà e anche Marusic ha fornito secondo me una prestazione sotto tono e questo è sicuramente un aspetto su cui la Lazio dovrà lavorare Una cosa importante è che Felipe Anderson ieri è stato devastante soprattutto nel primo tempo, ma anche nel secondo tempo il brasiliano ha messo sempre in grande difficoltà l'Inter e quando Felipe Anderson gioca così non vince la partita molto difficile nel primo tempo Felipe Anderson ha creato tantissimi problemi all'Inter tant'è che a un certo punto, mi ricordo un'azione alla fine del primo tempo dove addirittura il brasiliano è stato triplicato dai difensori dell'Inter nonostante questo è riuscito ad andare via e mettere al centro ecco il problema è che se da una parte Felipe Anderson ha brillata dall'altra Pedro non ha giocato come avevamo visto nelle altre partite e questo ha permesso all'Inter di spostare la difesa dal lato di Felipe Anderson per garantire una copertura superiore c'è chi dice che l'Inter per un'ora ha gestito la partita bene, le statistiche che dicono che la Lazio ha tirato 14 volte l'Inter l'8 quindi quasi il doppio dei tiri in porta della Lazio rispetto all'Inter come si fa a dire che l'Inter ha controllato è un mistero la Lazio ha giocato meglio dell'Inter, soprattutto nel primo tempo ha tirato tantissimo in porta e Andanovic è stato grande protagonista perché probabilmente con un altro portiere la Lazio avrebbe segnato prima c'è da dire però che dopo un primo tempo molto buono della Lazio il secondo tempo è iniziato un po' sottotono e a mio avviso il rigore di Ciro e Mobile è arrivato nel momento in cui l'Inter sembrava in controllo della partita forse l'unico momento in cui l'Inter sembrava potesse gestire la partita da là però il match è radicalmente cambiato un'altra cosa, quando è entrato Luis Alberto io ho pensato che potesse uscire Milinkovic Savic perché il serbo non stava giocando benissimo nel primo tempo è parso un po' in ombra Basic non aveva giocato male, ha dimostrato la sua qualità però Sarri ha deciso di rischiare tirando fuori Basic e da quel momento Milinkovic Savic si è acceso ecco, quando Milinkovic Savic decide di vincere la partita è devastante, era dimostrato ieri contro l'Inter nel secondo tempo, nella parte finale del secondo tempo più che Felipe Anderson è stato Milinkovic Savic il mattatore, quello che ha regalato i tre punti alla Lazio e ripeto, quando vuole Milinkovic Savic può essere veramente devastante la prova di Basic è una prova secondo me incoraggiante Basic è bravo di inserirsi ed è una delle caratteristiche che manca al centrocampo della Lazio è fisico, certo non fa girare il pallone come Luis Alberto però può essere decisivo in fase conclusiva contro l'Inter poteva fare il meglio nella fase conclusiva però secondo me ha giocato una buona partita certo, con Luis Alberto la Lazio ha iniziato a girare la palla ancora meglio e l'assist del terzo gol di Luis Alberto è una gemma un servizio perfetto per la testa di Milinkovic Savic la Lazio ha finora giocato contro tre big Milan, Roma e Inter ne ha vinto e due, ne ha persa una contro il Milan la Lazio non è praticamente scesa in campo ha sofferto la pressione alta del Milan contro Roma e Inter le squadre non hanno pressato alto e la Lazio ha preso il predominio del centrocampo e questo secondo me è uno dei motivi perché la Lazio ha vinto quelle due partite e ha perso contro il Milan tornando ancora una volta all'episodio del secondo gol della Lazio ripeto, come ha detto Maurizio Sarri ieri post partita l'Inter ha continuato, ha tirato in porta la Lazio non doveva buttare via il pallone c'è un arbitro, se l'arbitro reputa che l'infortunio è serio ferma il gioco, se l'arbitro dice non ferma il gioco la Lazio ha tutto il diritto di continuare e ripeto, non è mancanza di fair play anche perché nel primo tempo la Lazio sta andando via in contropiede Darbian è caduto a terra morto la Lazio ha buttato palla fuori appena la palla è uscita Darbian è risuscitato questo non è fair play la Lazio l'ha fatto nel primo tempo nel secondo tempo basta se i giocatori dell'Inter si tuffano come morti per far perdere tempo per bloccare azioni della Lazio direi che non c'è nessun bisogno di fermarsi chi dice che la Lazio ha mancato di fair play è un rosigone purtroppo si parlerà soprattutto di questo e non del fatto della Lazio che ha dominato l'Inter e ha portato a casa tre punti importantissimi soprattutto per il morale adesso c'è un grande problema perché Luis Felipe quasi sicuramente salterà la prossima partita e la Lazio si ritroverà senza Cerbi e Luis Felipe e quindi una coppia centrale da rinventare in conclusione non succederà mai ma mi auguro che Don Friis venga squalificato per almeno per due giornate per quello che ha fatto durante la partita è incredibile che Rati non abbia visto niente e non abbia spulso il giocatore uno che minaccia di dare un pugno a Felipe Anderson lo butta a terra dopo il gol che non venga squalificato è una cosa inconcebibile ma questo è il calcio italiano ciao alla prossima grazie